Seconda uscita pubblica del candidato a sindaco di Spezzano Sira in provincia di Cosenza della lista civica Impegno Comune Pietro Spizzirri, che ha incontrato i cittadini del villaggio turistico di Camigliotello Silano, località turistica dell'altopiano della Sira Cosentina. Un incontro partecipato dove si è parlato del mancato sviluppo turistico della frazione di Spezzano Sira, con il contributo tra gli altri degli interventi tecnici dei docenti dell'Unical di Rende Mario Caligiuri, direttore del master sull'intelligence e Francesco Aiello, docente di politica economica. Ritengo che sia di fondamentale importanza il contatto diretto con i cittadini e il confronto per affrontare quelle che sono le sfide del nostro futuro. Questo è un territorio importante e con tante opportunità che merita la giusta attenzione. Noi abbiamo l'idea di inaugurare una stagione nuova, l'idea di realizzare un'azione politica che parte dalla base, che parte dal confronto con tutti i cittadini per giungere ad una proposta condivisa di programma amministrativo per le prossime elezioni comunali. Penso che sia necessario garantire la massima rappresentatività dei cittadini attraverso scelte che diventino fondamentali per lo sviluppo del territorio. La Sila e Camigliatello in particolare può giocare un ruolo strategico fondamentale per lo sviluppo del turismo e dell'economia non solo della nostra regione ma dell'intero Mediterraneo. Penso che però bisogna realizzare scelte che vanno nell'idea di investire su opere di primaria importanza. Quindi gli investimenti vanno mirati alla realizzazione di risultati concreti. Quello che è mancato negli anni passati è una politica attenta ai bisogni reali dei cittadini. Noi vogliamo che ci sia un'azione politica e se avremo la fortuna, così come spero, di amministrare questo comune, il comune di Spezzano, Camigliatello sarà sicuramente al centro del nostro impegno politico, al centro dell'agenda politica dei prossimi cinque anni di governo.